Buongiorno a tutti, oggi è lunedì 23 settembre, sono le 14.10 e vi do il benvenuto a questa videoanalisi prof.ste, aggiornamento diciamo così in tempo reale data la mattinata estremamente interessante del lunedì che apre questa settimana settimana anche di competizione per quanto riguarda la 3D in Liga adesso vi racconterò un pochino che cosa sta succedendo da oggi lunedì fino al 27 settembre o meglio la prova multiday che durerà da oggi lunedì fino a giovedì sera alle 18 e poi la prova intraday di venerdì 27 che potrete seguire anche in diretta streaming dalle 3 alle 4 la prova e ci collegheremo a partire dalle 3 meno un quarto dicevamo mattinata estremamente interessante perché ho appena pubblicato un link sulla parte del market briefing dove questa mattina dicevo che mattinata davvero strana perché dopo il gap realzista c'è stata una discesa quello che vedete è il DAX che vedeva quel famoso piccolo doppio massimo anche se formalmente non è esattamente un doppio massimo perché non siamo in un trend giornaliero crescente quindi siamo in una situazione di sostanziale lateralità qui ad esempio lo vedete molto bene sul DAX per cui è incertezza in qualche modo l'abbiamo detto tante volte è un doppio massimo un pochino sporco ci può aiutare però a navigare le acque di questi mercati e in questi giorni dato che ad esempio questa mattina la discesa che ha seguito praticamente il market briefing l'analisi di market briefing ha portato a questa enorme candela rossa e molto decisa sul DAX questo è il grafico a due ore che ha penetrato i minimi diciamo il pivot del adesso lo andiamo a vedere sul giornaliero del questo doppio massimo che stiamo seguendo doppio massimo impuro e eccolo qui pivot è esattamente a 12.303 e aveva per il momento confermato il doppio massimo stesso però poi c'è stato un ritracciamento adesso siamo a 12.317 quindi siamo rientrati al di sopra del pivot cioè del punto di rotazione del doppio massimo che cosa significa questo? che se chiudiamo al di sotto al di sopra di questo livello cioè dei 12.303 di DAX sapremo a fine giornata se il doppio massimo è effettivamente confermato o meno certo la discesa di questa mattina è stata estremamente decisa forte e in qualche modo ha colto tutti di sorpresa nei limiti del fatto che in realtà non c'era alcuna sorpresa dato che sono giorni dove si vede molto bene come effettivamente i mercati siano a un passo dai massimi più o meno tutti ovviamente su DAX e STOX sono i massimi di luglio ma per ora nessuno li ha superati e quindi per ora nessuno li ha ha confermato la positività il DAX poi si è fermato esattamente sotto i massimi di fine aprile e inizio maggio che abbiamo tante volte sono sulla scadenza dicembre del future a 12.470 evidenziato come confine fra il bel tempo e il cattivo tempo la positività e la negatività laddove invece l'euro stocks è fermo al di sopra degli stessi ma sotto i massimi quindi è un po' in una situazione di mezzo rispetto alla relativa negatività del DAX o alla mancata conferma della positività e una mancata conferma della positività definitiva che verrebbe solo sopra questi livelli non solo sullo stocks ma ovviamente su tutti e sugli americani questi livelli sono anche i massimi storici ma andiamo con ordine allora io direi che la prima cosa da osservare è se questo doppio massimo impuro chiamiamolo così va a buon fine o meno dato che il recupero in atto sembra aver riportato come ripeto il DAX al di sopra di questo livello cioè dei 12.303 parlo della scadenza future dicembre e quindi è decisivo vedere se oggi si chiuderà al di sopra o al di sotto dello stesso livello teniamo presente che a livello intraday e ovviamente il momentum questo è il grafico a due ore si è tutto girato verso il basso vedete che aveva già iniziato a mostrare più forza se leggiamo l'intensità delle candele anche proprio in questa congestione o doppio massimo chiamiamolo come vogliamo c'era comunque una prevalenza di momentum verso il basso chiaramente adesso c'è stata un'accelerazione questo è sicuramente un recupero importante vedremo in primo luogo se e come rimarrà riuscirà in questo recupero a rimanere sopra i 12.303 che sono il pivoto e il doppio massimo oppure se capitoleremo nel pomeriggio con l'apertura degli Stati Uniti andando a chiudere al di sotto di questo stesso livello questo è un livello molto importante soprattutto a livello intraday poi e più in generale anche sul daily è un livello importante perché ripeto la chiusura della barra daily è assolutamente fondamentale dopodiché se ci sarà il recupero il doppio massimo e quindi chiuderemo al di sopra di 12.303 lo possiamo mettere sostanzialmente in soffitta anche se aspetterei a parlare di positività ma il pattern diventerebbe un pochino sporco dato che servirebbe una decisione che solo verrebbe da una chiusura sotto lo ripeto questo livello e l'incertezza derivante da una chiusura sopra come adesso questo recupero toglierebbe sicuramente un po' di forza la negatività però rimarremmo in un'area di congestione quindi si tratterebbe a quel punto di aggiornare i confini della stessa e vedere se e quando e da che parte usciremo vero è che se invece chiuderemo al di sotto di 12.303 il pattern sarà confermato e a quel punto ci vorrebbe un proseguimento verso il basso e o un eventuale ritest dal basso di 12.303 che però potrebbe anche darsi stia facendo in queste ore e in intraday perché un'eventuale ridiscesa sotto lo stesso potrebbe vedere anche nuovi minimi come ripeto e quindi una confermata negatività però rimaniamo un pochino sospesi rimaniamo sospesi anche perché l'Eurostox non ha mai eccolo qui il doppio massimo sull'Eurostox neanche raggiunto il minimo o meglio il pv il riferimento del doppio massimo che abbiamo qui a 3.506 il minimo di oggi infatti è stato fatto scusate 3.503 laddove il minimo di oggi è stato fatto a 3.506 quindi poco al di sopra il pv non l'ha neanche raggiunto quindi c'è di nuovo una divergenza rispetto alla negatività del DAX che resta prevalente anche qui comunque è facile seguire questo doppio massimo un pochino imperfetto per aiutarci a capire che intenzioni ha il mercato ma e anche qui in modo molto semplice basta prendere i confini di quest'area di congestione e vedere se e come si uscirà dalla stessa in quale direzione ovviamente un ritorno di positività sarebbe confermato solo da un posizionamento sopra questi massimi e la negatività si avrebbe solo quando e se l'Eurostox si andasse a porre sotto i minimi del maggio fino a mio apri inizio maggio filtrati ve lo ricordate sull'Eurostox l'abbiamo detto tante volte con questi massimi di metà giugno a 3.488 perché perché il DAX è già sotto quel livello quindi ci sono due cose importanti seguire il doppio massimo e vedere da che parte si posizionano lì stessa cosa negli Stati Uniti l'abbiamo già detto stamattina al market briefing ho pubblicato la parte di video interessata quindi non lo stiamo a ripetere troppo in dettaglio massimi l'S&P è ancora sopra gli stessi il Nasdaq è sotto gli stessi quindi anche qui una piccola divergenza che va risolta se il Nasdaq recupera si pone sopra questi poi tutti e due devono fare nuovi massimi per confermare la positività uno scenario più negativo vedrebbe invece il che sarebbe confermato dall'S&P 500 che si ponesse sotto questi livelli che sulla scadenza dicembre sono quelli dei 2.969.25 ma potete facilmente ritrovarli su tutti i grafici anche sul FIB volendo perché vi ricordate che sul FIB il livello di fino a prima inizio maggio chiave è quello dei 21.500 dei quali tantissime volte abbiamo parlato e quindi per ora il FIB stesso rimane al di sopra di questo livello e non solo ma anche rispetto a questo pattern di presunto chiamiamolo così doppio massimo vedete che il FIB non ha neanche raggiunto da lontano il FIB quindi il FIB anche nella negatività continua a sovra performare per quanto riguarda la sfida la trading league ecco diciamo che siamo in una situazione dove c'è poca sfida all'inserito questa settimana Maurizio Possega nelle prime ore ha già superato i 1.500 euro di performance e se volete andate a rivedere anche l'intervista che gli fece appunto settimana scorsa un sistema algoritmico direi a prova di bombe a prova di mercati perché vedete che anche dall'equity line soprattutto in una mattinata come questa dove c'è stata un'esplosione di volatilità dimostra un vantaggio competitivo oggettivo costante e soprattutto sistematico quindi è una settimana che sarà dominata letteralmente dalla performance di Maurizio quindi una sfida senza sfida io continuerò a seguire i mercati stamattina tra market briefing e analisi varie ho un pochino perso il treno rispetto alla discesa del DAX dato che io sarei entrato short alla rottura del pivot dei appunto 12.303 poi il DAX è arrivato fino a 12.248.5 di minimo quindi sicuramente un buono spazio rispetto alla discesa e tra appunto dirette varie cose non ho fatto in tempo letteralmente anche se alle 9.12 mi ricordo che ho detto qui si sta muovendo qualcosa in effetti poi durante l'analisi del market briefing notavo come il doppio massimo fosse ancora il pattern da seguire comunque poco male tanto è una settimana dove ripeto la trading league ha una connotazione ben precisa grazie alla meravigliosa performance di Maurizio Possega diciamo che noi seguiamo senza tutti gli altri esporsi troppo come vedete chiaramente e quindi rimaniamo un pochino alla finestra ammirati di questa sua performance sicuramente qualcosa di interessante da studiare perché il suo trading analitico e algoritmico come descritto bene in quell'intervista che vi consiglio di andare a rivedere è qualcosa di molto molto interessante e che va sicuramente considerato mi riprometto come sempre di aggiornarvi sul canale telegram come sempre condividete l'analisi con tutte le persone a cui pensate possa interessare siamo oltre i 400 iscritti quando arriviamo a 500 c'è un regalo di dati che vi anticipo è un vero e proprio corso per tutti non un corso gratuito ma un corso a pagamento che per l'occasione regalerò a tutti gli iscritti quindi continuate a condividere nel frattempo seguite la Trading League su tradingleague.com vi ricordo venerdì la diretta dalle 3 alle 4 diciamo lo streaming inizierà un pochino prima 13.45 dove quindi avremo modo di parlare con tutti i protagonisti e soprattutto con Maurizio Possega che come vedete prosegue con una performance assolutamente strabiliante grazie a tutti e a presto